Buongiorno a tutti, bambini e bambini e buongiorno a tutti gli insegnanti e gli insegnanti che sono qui con noi. Io sono De Esca, sicuramente ormai qualcuno mi riconosce come volto della casa editrice, come responsabile del progetto lettura e del catalogo in alvento primaria e secondaria. Oggi siamo qui perché domani è una giornata molto molto importante, è una giornata speciale perché è la giornata della donna nella scienza. E quindi oggi volevamo parlare con voi di tutte quelle donne importanti che hanno scritto la storia e che sono rimaste impresse nella storia per le loro scoperte, per le loro intuizioni. Perché per noi da ormai tanti anni come casa editrice è importante, ci sta tanto a cuore, l'ugualianza delle donne con gli uomini. Quindi è giusto ricordare che anche una donna può raggiungere gli obiettivi e i successi come gli uomini. Oggi a parlarcene c'è la nostra autrice, carissima autrice, Loredana Fescura, che chiamo in collegamento. Eccola. Ciao, Loredana. Ciao a tutti, ciao Benedetta, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Grazie mille per essere qui con noi. Grazie a voi. Per questa giornata così importante. Loredana ha scritto tantissimi libri con noi, è una cara amica. E uno di questi è Il pallone maschio, la palla è femmina, che vedete qui. Poi ci spiegherai meglio tu il motivo per il quale si collega bene a questa giornata. Quindi non voglio dare anticipazioni e quindi togliere la curiosità. Colgo l'occasione per presentare anche il collega Emanuele Ramini, che è sempre presente. Eccolo lì. Ciao Benedetta, ciao Loredana, ciao a tutte le bambine e bambini, alle maestre, ai genitori collegati. Come dicevi tu, è un piacere per noi, un orgoglio per noi Raffaello, oggi parlare di parità di genere. Sono un uomo, quindi dico veramente che è fortuna che nel mondo ci sono le donne. Grazie a Loredana che oggi ci parlerà con il suo solito modo e la sua solita bravura di parità di genere. Poi ci risentiamo dopo per le domande, Loredana. Va bene? Colgo l'occasione per ricordare che potete farci tutte le domande su domande e risposte, perché la chat sarà disabilitata. Noi in regia risponderemo a tutte quante le vostre curiosità e le più belle le salveremo e le leggeremo in diretta a Loredana, che sicuramente risponderà con un grande piacere. Loredana, lascio la parola a te. Va bene. E noi ci sentiamo più tardi. Grazie. Allora, devo condividere un attimo lo schermo, così non perdo tempo dopo. Perdonatemi, ecco, faccio subito, penso. Eccomi qua. Benissimo. Spero. Perfetto. Ecco, questo è il libro imputato e pubblicato con i tipi della Raffaello, al quale tengo moltissimo. Ma parliamo delle donne nella scienza, perché l'ONU domani festeggia, vuole ricordare la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. È stata una giornata istituita dall'ONU per combattere gli stereotipi e i pregiudizi di genere, ma anche per ricordare tutte quelle donne, quelle ragazze che ce l'hanno fatta, cioè con la loro tenacia, hanno superato le difficoltà che erano tipiche del momento e ancora oggi ce ne sono per il mestiere, per frequentare le loro passioni, le loro passioni che sembravano solo ad appannaggio degli uomini. C'è stato un lungo periodo della storia dell'uomo, purtroppo esiste ancora in alcune parti del mondo, in cui le bambine, la maggior parte delle bambine, non erano ammesse allo studio. E senza studio, lo sappiamo, non si possono di certo comprendere i segreti della natura. Infatti cos'è la scienza? Provo a dirlo in parole semplici, mi perdoneranno gli scienziati veri. La scienza è lo studio di tutte le cose viventi e non viventi che sono sulla Terra e nell'universo e dei fenomeni che accadono, dei fenomeni che accadono nell'universo. E gli scienziati che caratteristiche devono avere, che bisogna fare per diventare scienziati? Innanzitutto essere curiosi. La curiosità è l'anima dello scienziato e naturalmente anche molto pazienti. Lo scienziato poi è la persona che si pone continuamente delle domande, perché accade questo? E non si accontenta di una sola risposta, ma va a cercarne altre e poi continua a porsi domande. Questa idea polle e balzana, che solo i maschi potessero avere queste capacità, fece sì che per lungo tempo le bambine non frequentassero gli studi. Sembrava bastasse che le bambine imparassero a leggere e scrivere, già era tanto. E poi alle bambine erano destinati i mestieri di casa, le attività di casa, cucire, rammendare, cucinare e più grandi accudire i figli. Ma in tutti i tempi, anche in questi tempi assurdi, ci furono bambine e ragazze coraggiose che sfidarono questi stereotipi e pregiudizi. Adesso mi chiederete, mamma mia, ma che significa stereotipo o pregiudizio? È una parola difficile. Provo a spiegarvela velocemente con un esempio. Allora, io vado al parco e vedo un signore che cammina male e dico, ah, quel signore è zoppo. E mi tengo questa idea, mi basta e ne faccio una legge. Quel signore è zoppo. Ma magari quel signore ha camminato così tanto che ora è un po' stanco. Oppure che è caduto e magari si è fatto male a una caviglia, ma fra poco camminerà bene. Oppure anche che ha un paio di scarpe strette e che gli fanno male i piedi. Vedete, questo è lo stereotipo. È una cosa terribile. Quando io mi basta la mia idea e non vado a cercare nell'esperienza le prove. Lo scienziato odia gli stereotipi. Per questo oggi, per esempio, lo stereotipo ce n'è uno che detesto particolarmente, che dice che solo le femmine possono piangere. Piangere non è cosa da maschi, ma in realtà le ghiandole lacrimali appartengono all'essere umano, maschio o femmina che sia. E il pianto a volte è bello vederlo sul volto, quello di gioia, vederlo sul volto di tutti. E per questo oggi ho scelto di presentare donne e ragazze di scienza, ma anche non solo di scienza. Cioè donne e ragazze che per prime sono riuscite a intraprendere mestieri che si pensava dovessero essere svolti solo dagli uomini. E questo è uno stereotipo. Partiamo adesso dall'antichità. La prima medica, una... vedete siamo nell'antico Egitto, 4.000 anni fa, è un numero enorme. Nell'antico Egitto, Peseshet, la prima medica. Era una ragazza che studiava la natura, le erbe soprattutto, le studiava, le lavorava e le usava per guarire la gente. Oh, e questa è anche ora, siamo nell'antichità, è la prima donna chimico che fu una profumiera. Inventò l'arte di fare i profumi con le erbe, ricavava essenze e il profumo nell'antichità anche oggi è importante. Ma allora era ancora più importante perché pensate che si pensava che fosse un elemento che unisse agli dèi e quindi era ricercatissimo. Oh, andiamo a lei, Ipazia, la prima donna dichiarata sapiente. Ipazia era una bambina, come voi che mi state guardando e ascoltando. Era una bambina che viveva in una città dove c'era una biblioteca. Ma non pensate alla biblioteca piena di libri che conoscete. Questa era piena di rotoli, erano i papiri. Il suo papà si chiamava Teone, non un grande te, insomma. Teone era il suo nome, era un filosofo, uno studioso. E trascorreva con la figlia Oletta, con la bambina, tantissime ore dentro questa biblioteca e allenò la mente di Ipazia alla matematica, alla storia, alla filosofia. E' la prima donna nell'antichità che viene definita sapiente. Pensate che bello. Eccola qua, Laura Bassi, italiana. Siamo nel 1700, parecchi anni fa, è vero. Però è la prima donna che è riuscita ad insegnare in una università. Voi adesso dovete fare la scuola primaria, poi la secondaria di primo grado, poi dovrete fare una scuola superiore e infine l'università. Ma le donne, fino a qualche anno fa, un centinaio di anni fa, non potevano frequentare l'università. Quindi era una cosa assolutamente un privilegio raro. Lei, con molti stratagemmi, perché era molto arguta, intelligentissima naturalmente, riuscì non solo a frequentare l'università, ma poi fu la prima donna che riuscì ad insegnare all'università. Capite? Ecco qua, anche questa italiana, Marianna Candidi Dionigi. Siccome ho anche una collega archeologa, ho voluto davvero anche metterlo in suo onore. La prima archeologa in Italia. È una donna coraggiosissima, perché era veramente un mestiere che a quell'epoca era considerato quasi scandaloso. Bene, lei si fece aiutare da un architetto, tuo amico, e cominciò a scavare, misurare le mura poligonali delle mura. E eccola qua, è il nostro, nuovo, la nostra Indiana Jones. È una Indiana Jones, la prima in Italia. Andiamo avanti. Oh, questa non è una donna di scienza. È Rosa Scafa. Pensate, è la prima donna poliziotto in Italia. E non c'erano mai state donne che avessero intrapreso questa attività, questa carriera. Ora, oggi sembra normale, perché ne vediamo moltissime anche in televisione, no? Le donne poliziotto. Ma allora fece così scalpore, che finì su tutti i giornali e i telegiornali. Vedete come era la divisa? Vedete, era una ragazzina quando entrò in polizia. E poi c'è la foto di lei, 95enne, fino a 95 anni. Ecco, per una che, come me, che ha scritto un libro dove una bambina gioca a calcio, non poteva mancare, anche lei non è una donna di scienza, perdonate, però è la prima donna calciatrice. È la prima donna calciatrice. Nettie Honeyball, perdonate l'inglese. E siamo nel 1895, non siamo in Italia, siamo a Londra, una città che conoscerete senz'altro, no? Ha sentita sicuramente qualcuno, forse c'è già stato. Lei era una cassiera, stava alla cassa, faceva i conti di un supermercato, era appassionata di calcio e un giorno le venne quest'idea. mise un annuncio sul giornale, come oggi potremmo metterlo su Facebook, un annuncio e cercava altre donne che avessero la sua stessa passione. risposero in parecchie. Guardate che le divise buffissime, le sue divise, la divisa buffissima, queste donne giocarono la prima vera partita di calcio femminile, Inghilterra del Nord contro Inghilterra del Sud e vinse l'Inghilterra del Nord per 7 a 0. I giornalisti che andarono tutti, fece scalpore questa cosa, andarono a vedere la partita e dissero che proprio dovevano dedicarsi ad altro. Ecco, se quei giornalisti oggi, no? Avessero visto la nostra nazionale femminile, i successi che ha avuto, ecco oggi si dovrebbero ricredere. Ma fu così, ma lei non si diede per vinta, non si assolutamente arrese e continuò a giocare a calcio. Eccole qua, le prime donne alle Olimpiadi. C'è voluto il 1908, quindi siamo nel 2023, ecco, non tantissimi anni fa, non è come la prima medica, ma c'è voluto il 1908 perché le donne fossero ammesse agli Olimpiadi. Guardate qua questa gioia, questo trio di ragazze. Milla corsa. Ecco un altro personaggio, no scienziato, ho quasi finito con le no scienziate, ma questo ci tenevo molto, Alfonsina Strada, è italiana, la prima donna che gareggiò al Giro d'Italia. Avrete sentito nominare la più prestigiosa corsa in bicicletta d'Italia. Alfonsina era una ragazzina ribelle, adorava la bicicletta, ma non ne aveva, era di una famiglia povera. E la notte, quando il suo babbo dormiva, lei usciva, rubava la bicicletta al babbo e se ne andava a correre con la sua bici per le montagne e le colline. Considerava la bici il suo cavallo magico che la portava verso la libertà. Si sposò prestissimo e sapete cosa volle dal marito come regalo di nozze? Una bicicletta, naturalmente. Il marito la rese felice. Lei si iscrisse al Giro d'Italia. La fecero partecipare. Non era molto allenata, anche perché la sua bici era molto più pesante delle altre e quindi i percorsi sulle montagne per lei erano difficili. Finì fuori classifica, ma sapete, nonostante fosse finita fuori classifica, continuò a correre. Non le importava, insomma, vincere. Le importava solamente andare in bici. Quando divenne un po' più grande, un po' che non poteva più partecipare alle gare, si dedicò alle biciclette. Le vendeva, le aggiustava e soprattutto vi passeggiava, passeggiava con loro. e questo è Alfonsino. Silvia Hurl, l'oceanografa dei record. Allora, Silvia era una bambina, siamo in America, non siamo in Italia. viene conosciuta, riconosciuta da tutto il mondo come sua profondità, perché sia inabissata negli oceani, sia al Pacifico sia all'Atlantico, era stata una bambina che viveva in una fattoria. Vicino a questa fattoria c'era uno stagno e lei con i suoi fratelli faceva esperimenti nell'acqua. L'acqua la traeva tantissimo. Infatti la famiglia poi si trasferì in un altro posto, ma vicino al mare e lei trascorreva ore e ore ad osservare la sabbia e il mare, a guardare la vita che c'era. Pensate, adorava la pioggia perché in ogni goccia vedeva la vita. È diventata la prima donna scienziata, capo dell'amministrazione degli oceani nel mondo. Beh, insomma, un vero supereroe, no? Anche questo. Una grande. A lei, Valentina Terescova. Io ho degli alunni che vogliono diventare astronauti, quindi anche questo è dedicato. È Valentina Terescova, è russa. È la prima donna cosmonauta nel mondo che ha esplorato lo spazio. Era una bambina di una famiglia molto povera e iniziò presto a lavorare. Lavorava come sarta, come operaia, però la sera andava a scuola e svolgeva anche tutti i compiti, nonostante al mattino dovesse andare a lavorare. Pensate quanta forza e quanta tenacia. A un certo punto riesce a finire gli studi, riesce a finire tutto il percorso scolastico e sa che il suo governo cerca delle donne che si allenino per diventare astronauta. Si iscrive immediatamente. Sono otto mila. Sono tantissime. Le donne, vedete quante donne volevano diventare cosmonauti. e lei viene scelta con altre quattro. Cioè su otto mila lei è tra le cinque e poi tra le cinque viene scelta lei e lei va nello spazio. Sapete cosa dice prima di partire con il suo razzo? Dice Ehi cielo, apriti che sto arrivando io. È un orgoglio incredibile, no? Una superman. Un'altra donna che ha amato tantissimo il volo Amelia Herrert ci sono anche dei film su di lei e lei voleva diventare una pilota ma a quel tempo nessuna donna poteva diventare pilota. Lavorò moltissimo per pagarsi gli studi di volo e fu la prima donna ad attraversare con un aereo l'oceano atlantico. Purtroppo purtroppo in una di queste trasvolate il suo aereo e lei e il suo aereo sfuggirono ai radar e di lei non si seppe più niente purtroppo. Una donna molto coraggiosa. Oh, bene. Margarita forse sicuramente tutti tutti hanno sentito parlare di lei l'hanno chiamata la donna delle stelle e io l'ammiro in particolar modo. allora non è la prima donna di niente perché di astrofisiche ce ne sono state prima di lei però è la prima donna alla quale è stata dedicata e innalzata costruita una statua in bronzo una statua che adesso si trova davanti all'università di Milano. È la donna delle stelle Margarita perché è un'astrofisica famosissima amava la bicicletta tantissimo anche lei ecco perché ho scelto anche prima di presentarvi Alfonsina perché le cose a volte vengono collegate e amava i gatti tantissimo li amava la sua famiglia era composta da due insegnanti che quindi la allenavano molto allo studio e era una famiglia vegetariana e lei non ha mai mangiato carne per tutta la sua vita ha studiato le stelle e ha detto una frase bellissima cioè noi siamo anche fratelli anche perché tutti deriviamo dall'evoluzione dell'universo e dall'evoluzione delle stelle perché le stelle sono in continua evoluzione cioè nascono muoiono si muovono è tutto l'universo che si muove ok ah benissimo andiamo a Lady Wi-Fi vedete quant'è bella questa signora ecco è un'attrice e anche qui si supera uno stereotipo o si dice che le donne belle siano poco intelligenti ma non è vero lei lo smentisce lei è stata una grande attrice che ha lavorato ad Hollywood con grandissimi attori in bellissimi film ma era soprattutto una scienziata da piccola imparava le lingue straniere senza sforzo arrivava a qualcuno uno straniero e pronunciava una frase lei era in grado di ripeterla in modo identico con lo stesso accento imparava a memoria fiabe filastrocche che poi recitava e ne rimanevano tutti incantati quindi divenne un'attrice naturalmente aveva studiato e un giorno incontra un pianista un pianista che si mette a spiegarle come funzionano i pianoforti quelli meccanici quelli non so se l'avete mai visti che suonano da soli allora lei che fa aveva avuto già un'idea questa idea del pianoforte la incantò e insieme a questo pianista inventarono una apparecchiatura che riusciva a cambiare la frequenza continuamente e quindi sfuggiva a tutti i controlli era fantastico la brevettò la presa cioè la brevettò disse andò e la registrò come sua e andò al governo per presentarla il governo visto che la presentava forse anche una donna non non la considerò molto ma pensate anni dopo questa idea di Lady Wi-Fi cioè Lady Lamar è stata ripresa è diventata la base di che cosa dei nostri telefonini degli smartphone della Wi-Fi e dei Bluetooth pensate era una donna che guardava avanti oltre e pochi l'avevano la capivano come era successo alle altre donne che vi ho presentato otto qua questa anche conoscerete tutti ci tenevo molto Marie Curie la scienziata che vinse due Nobel a vincere due Nobel il Nobel è un premio prestigiosissimo è il premio proprio più importante per uno scienziato è una come vincere una supercoppa lei ne vinse addirittura due e la sua storia è un po' strana però ve la racconto brevissimamente la sua famiglia era formata da due insegnanti quindi e aveva dei fratelli e delle sorelle e lei viveva in Polonia nacque in Polonia e viveva in una città della Polonia e ad un certo punto finì ad un certo punto a 12 anni purtroppo morì la sua mamma e lei comunque finì il liceo finì gli studi e voleva iscriversi all'università ma in Polonia all'università le donne non potevano iscriversi allora lei ci teneva tantissimo però allora ebbe un'idea e pensate sentite qual'idea chiamò sua sorella che già aveva finito il liceo e aveva il sogno di diventare medico e le disse facciamo un patto io e te io adesso mi metto a lavorare e ti mantengo agli studi in Francia dove ho scoperto che alla Sorbona che è un'università accettano le donne tu vai in Francia e io ti mantengo ma appena tu diventerai dottore tu mi devi promettere che ti occuperai di me mi farai studiare e così fu lavorò sei anni duramente per mantenere sua sorella la generosità no e però la sorella appena diventata appena realizzato il suo sogno chiamò Marie in Francia e Marie divenne uno scienziato poter quindi scoprire la radioattività nell'uranio che ha salvato tante vite e poter diventare lasciare il segno nella storia dell'umanità e della scienza un atto di generosità tra sorelle veramente bello e incredibile eccola qua un'altra appassionata del cielo dello spazio Vera Rubin astronoma sapete come nacque la sua passione per le stelle ma forse è strano forse nacque dai litigi che aveva con la sorella Ruth litigavano per tutto e un giorno Vera disse basta dobbiamo dividere la stanza prese un filo e con il filo tracciò la metà circa della stanza e disse tu stai da una parte uno spazio io me ne prendo un altro lei si prese lo spazio meno bello però aveva questo spazio un finestrone e tutte le sere Vera dal finestrone osservava il cielo e le stelle suo padre si accorse di questa passione e siccome era anche lui uno studioso costruì insieme alla figlia un telescopio un telescopio fatto fatto in casa però Vera per Vera era il miglior telescopio del mondo e con quello continuò ad osservare naturalmente studiò studiò le stelle studiò il cosmo allora vi devo dire che Vera non amava molto andare a scuola ahimè ma forse perché c'era un altro stereotipo che ve lo devo dire lei era mancina e la costringevano a scrivere con la destra e lei scrivendo con la destra che non era la sua mano preferita si sentiva impacciata goffa le venivano male le cose e la rimproveravano e poi ci fu una volta che un insegnante di scienze lo dice lo racconta lei le disse tu Vera è meglio che lasci perdere gli studi scientifici per fortuna per fortuna Vera non l'ha fatto qualche volta e qualche volta anche gli insegnanti sbagliano però solo qualche volta e è diventata una grande scienziata ed è stata lei che ha scoperto la materia oscura la materia che governa l'universo e è stata la prima donna a fare questa importantissima scoperta che poi venne ripresa da tanti altri scienziati ecco la materia oscura questa bambina prodigio ecco vi dico solo la prima donna matematica ottenne allora terminò le scuole superiori a 14 anni lei imparò a leggere e scrivere a 3 e a 16 anni cominciò a frequentare l'università e a 18 di solito l'università dura 5 anni anche 6 lei in 2 anni fece tutto il percorso universitario e ottenne il voto massimo con la lode è una bambina prodigio che fece di importante ecco anche lei fu chiamata a a lavorare alla NASA e fu lei che studiò e fece volare nello spazio tanti razzi ok e con questo ho finito la la mia carrellata di personaggi di donne scienziato e se permettete vi leggo solo l'incipit del pallone maschio e la palla femmina e perché i bei tipi della Raffaello mi hanno chiamata a parlare di parità di genere ve ne leggo solo un pezzettino se permetti va bene Benedetta funziona bene assolutamente sì vai mi chiamo Carlotta e sono femmina femmina come la palla anche il mio papà lo diceva sempre ricordati Carlotta che il pallone è maschio ma la palla è femmina gioco a calcio nella categoria dei pulcini perché ho quasi nove anni e ho lasciato i primi calci a settembre sono nella squadra del colonnella che è anche il mio il mio paese e la nostra divisa è verde come il mare d'inverno o come le foglie delle querce in estate questo è l'inizio posso continuare con la Loredana aspetta ti volevo un attimo interrompere perché ti ringrazio per questa carrellata stanno arrivando anche domande quindi evidentemente hai suscitato curiosità tra i nostri ascoltatori mi è piaciuto a me personalmente hai parlato dalla prima medica alla prima chimica alla calciatrice all'astronauta all'astronoma quindi davvero dobbiamo tutti noi uomini e donne capire come dicevo prima che l'importanza delle donne purtroppo ci sono state bambine e bambini anche tante donne che hanno dato la vita per raggiungere questa uguaglianza quindi e stiamo lavorando per appunto per raggiungere l'uguaglianza voi bambine mi rivolgo in particolare a voi penso che sappiate cos'è l'agenda 2030 l'agenda 2030 appunto sono delle leggi diciamo che il mondo intero si è dato degli obiettivi chiamati goal che il mondo si è dato da raggiungere entro l'anno 2030 quindi mancano una decina d'anni l'obiettivo 5 dell'agenda è proprio raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze quindi evidentemente stiamo lavorando tutto il mondo sta lavorando ma ha capito l'importanza di questo obiettivo noi abbiamo anche un libro che tu Loredana conosci bene che è Noi siamo il futuro e appunto anche qui hai scritto un bellissimo racconto sull'agenda 2030 io ti volevo chiedere prima di parlare dell'altro libro del pallone maschio e la palla è femmina cosa diresti tu anche da maestra o da scrittrice Loredana ha scritto tanti tanti libri per tante caseitrici a livello mondiale come a che punto siamo lo so è una domanda molto difficile che cosa devono fare ancora le donne per raggiungere l'uguaglianza e che cosa devono fare gli uomini per permetterlo allora non so se hai notato tra le descrizioni c'è un filo delle donne che ho presentato c'è un filo comune che è sono è il filo è un filo conduttore che le ha portate a raggiungere il loro obiettivo uno è lo studio senza lo studio non si riesce ad ottenere nulla compresa a me compresi noi compreso te che sei davanti e dietro ad una grande casa editrice senza lo studio la tenacia la tenacia è un altro filo conduttore di tutte le donne che ho presentato a Perugia dicono latinia che rende solo per i perugini questo è scusate perché io vivo in Umbria e però è la tenacia e poi il fatto che appunto gli uomini il compito è delle donne ma è anche degli uomini io direi che il compito questo compito spetta all'umanità cioè è l'umanità che deve controllare che le donne e gli uomini abbiano una parità perché è assurdo continuare cioè ci sono delle prove che tu non puoi contestare che gli uomini e che le donne possono raggiungere gli stessi obiettivi degli uomini se vogliono non tutte le donne possono diventare cosmonauti non tutte non tutti gli uomini ugualmente non possono però se hanno le competenze le conoscenze e quindi lo studio ti dà la competenza anche le abilità perché ci vuole un'abilità che a volte è fisica no? niente è precluso a nessuno né agli uomini né alle donne anche molto bello quando hai detto purtroppo si dice ancora che solo le femmine possono piangere no? è uno stereotipo che un maschio non può piangere vogliamo dire due parole su questa bellezza che hai detto cioè un maschio che piange è un uomo che piange non è una cosa bambini maschi non vi dovete vergognare assolutamente assolutamente io tra l'altro insomma frequento i bambini da tantissimi anni e assolutamente questa frase non l'ho mai nemmeno pensata però un pregiudizio uno stereotipo perché il pianto si pensa che sdeli una fragilità una debolezza e invece che è giusto che sia anche dei bambini perché anche i bambini hanno le loro fragilità come le bambine sono esseri umani siamo una unica razza che è la razza umana quindi questo è importante però sì ci sono ci sono gli stereotipi di genere che sono tantissimi questo è quello più famoso forse uno dei più famosi un altro molto famoso scusa Benetta sto interrotto forse un altro molto famoso è il colore rosa e il colore azzurro lo vogliamo vogliamo dire che allora bambine mi rivolgo sempre a voi oggi vi guardo negli occhi siete tante vi leggo da tutta Italia come sempre e vi ringraziamo se voi non so se avete il grembiule o no ma guardatevi il maglioncino o la maglietta che avete allora io oggi ho una maglia blu se avessi avuto se avessi avuto la maglia rosa sarei stato Emanuele la stessa identica persona Loredana se oggi aveva la maglia nera rosa verde azzurra fucsia idem Benedetta se oggi aveva un altro colore sarebbe stata la stessa identica persona quindi vi invitiamo non prendiamo in giro se un maschietto vuole mettersi la maglia gialla se vuole mettersi un paio di pantaloni rosa non conta niente non è più bravo più intelligente meno bravo o meno intelligente se una femmina ugualmente usa dei colori si veste di azzurro è la stessa identica persona assolutamente il colore il colore i colori sono i colori dell'arcobaleno appunto poi non fanno l'identità di una persona cioè la persona vestita in un modo o in un altro rimane sempre quella persona punto cioè veramente in questo penso però che Emanuele stiamo andando un passetto avanti cioè che ci siamo quasi insomma quasi ci siamo quasi aver superato questo stereotipo del colore ho una domanda bellissima una bambina Flavia ci legge e ci scrive cosa possiamo fare noi per imparare la parità di genere quotidiano una bambina che ti scrive cosa possiamo fare noi per imparare la parità di genere ma prima di tutto comportarsi in maniera adeguata nelle occasioni cioè in ogni occasione cioè prima di tutto superare se uno ha questi stereotipi cioè non prendere in giro il compagno o la compagna perché si pensa che in quel modo sia da maschi e sia da femmine cioè è superare la barriera che una cosa è da maschi e una cosa è da femmine cioè se vedo giocare con la bambola un bambino non ecco la prima cosa da fare è tranquillamente reputarlo naturale normale naturale più che normale naturale o così io per esempio ho avuto tanti alunni che amavano tantissimo giocare a calcio e per me e per me era naturale mi incuriosiva è vero mi ha incuriosito infatti sono andate anche alle partite a vederle come si relazionavano no perché il calcio mi ricollego al libro ma non è per fare pubblicità è per rispondere a Flavia perché il calcio sembra sembrava che fosse una cosa da maschi ma ci possono essere delle bambine che hanno le abilità hanno abilità e competenze e passione la passione per uno sport e niente è precluso a nessuno cioè considerare naturale le cose che fanno sia i bambini sia le bambine e poi e poi questa distinzione benedetta mica quando sono piccoli i bambini e le bambine ce l'hanno la vivono in maniera naturale siamo noi adulti è sempre cioè siamo noi adulti ad insegnare loro male cioè quindi a male insegnare questa distinzione ecco assolutamente a proposito del tuo libro c'è una classe che quando hai iniziato a leggere le prime righe del pallone maschio la palla e femmina le bambine si sono emozionate erano felicissime e volevano che tu continuassi quindi magari prima qualche minuto dalla fine magari ci leggi qualche altra riga ricordiamo che tu sei disponibile anche per fare degli incontri quindi hai incontrato tante classi online via via webcam quindi possiamo comunque farli ancora allora è disponibile a incontrarvi e magari entrare più nel dettaglio di questa tematica il pallone il pallone maschio la palla è femmina è un libro delizioso e io sono appassionato di calcio e vi assicuro che è davvero un piacere leggerlo c'è una frase io mi ricordo Loredana è un libro di qualche anno fa c'è una frase che mi è sempre rimasta impressa ma in due parole proprio sintetizzi tutto il libro gioco corretto gioco perfetto certo ecco allora la correttezza l'educazione nel mondo dello sport la gentilezza la lealtà il vincere con secondi mezzi il vincere imbrogliando il vincere magari facendo giocare un calciatore squalificato a cosa serve? a a a depreciare lo sport cioè a rendere lo sport una cosa di poco valore perché come dice nel libro il il papà di Carlotta che lei ricorda no? vede tra le nuvole perché purtroppo non c'è più però il papà le aveva insegnato le aveva sempre insegnato che gioco corretto e gioco perfetto perché che gusto c'è a vincere con gli spintoni eh con i falli no? parlo di calcio quindi quindi che gusto c'è a vincere con la slealtà che gusto c'è non è il tuo valore non non sei tu che vali eh e quindi è bene eh la la prima regola dello sport è che il gioco deve essere corretto devi essere il tuo quello che gioca contro di te non è il tuo nemico è il tuo avversario e va rispettato eh cioè non è che la guerra è che quello è il nemico è l'avversario e l'avversario merita rispetto naturalmente se vinci è pure meglio certamente chi lo mette in dubbio però lo devi devi vincere con onore qual è l'onore che vinco perché valgo non perché ho imbrogliato ho fatto delle cose contro l'avversario ho fatto perché sono stato più bravo di lui e allora sì che c'è la vera vittoria la più bella vittoria il fatto di sentirsi soddisfatti orgogliosi di se stessi e in questo libro si affronta anche il la tematica dei genitori che a volte sono invasivi nei confronti vogliono pretendono dai figli eh che siano che primeggino eh anche anche usando eh non usando la lealtà eh usando atteggiamenti poco leali quindi ecco insomma è un libro anch'io eh anche io lo amo molto nonostante io appunto io sono una donna non sono eh ho ho accompagnato per anni e anni e anni i miei figli e ho avuto dei rudimenti di calcio da loro sono stata anche guardialine parecchie volte in molte partite non lo sapevo questo non lo sapevo sì e quindi ho dovuto studiare ho dovuto studiare la il comportamento le le regole del calcio perché se fai il guardialine devi conoscerlo ecco mi sono presa un libro e l'ho studiato io faccio così quando devo fare una cosa la studio devo dire che quando hai parlato di lealtà appunto nel calcio ritornando alla parità di genere forse le femmine sono più leali dei maschietti se pensiamo no scusa tu il rispetto dell'avversario il non imbrogliare il non essere violenti il non insultare il passare la palla quando è necessario tutti quei valori tutte quelle regole fondamentali nello sport forse le femmine le hanno un po' più in se stesse non lo so i maschi sono più competitivi in questo eh sì perché glielo insegniamo sempre quella Emanuele è sempre quella perché se noi io lo insegnassimo che questo non lo imparerebbero tra l'altro la miglior figura che fanno le donne che hanno fatto ce la dimostra la nazionale ce l'ha dimostrata la nazionale femminile di calcio con gli ultimi grandi successi che ha avuto e queste partite belle insomma belle da vedere no? Cioè quello che dicevi tu è stato dimostrato no? dalla dalla nostra nazionale italiana eh di calcio i grandi successi che ha avuto sì è vero ti leggo un'altra domanda adesso da Martina perché a quella scienziata la costringevano a scrivere con la mano destra? Allora è un pregiudizio che è scomparso non c'è più però bene Martina la mano sinistra era considerata la mano del diavolo e quindi era un è uno vedi questo è il pregiudizio pre giudizio io mi faccio un'idea e mi basta la mia idea e la e questa idea la spalmo su tutte le le creature del mondo eh allora ti pensava che la sinistra fosse la mano del diavolo e quindi non dovesse essere usata io per esempio anch'io a scuola ho degli alunni mancini che scrivono con la sinistra e per me è una cosa naturale però questo perché parliamo di un centinaio anzi cento qualche un centinaio di anni fa guarda che questo pregiudizio se ne è andato da pochi anni perché per esempio io ho 61 anni compiuti da poco e quando io ero piccola era la mano sinistra veniva legata al veniva legata al corpo per perché si evitasse di scrivere con la mano sinistra chiaro? quindi ti parlo anche per esperienze che ho vissuto no io non sono mancina non lo sono ma per un motivo perché sai deriva dal nostro cervello comanda a volte più il destro la parte destra più la parte sinistra e poi è incrociato vuol dire che la parte che comanda di più su di me è la parte sinistra del cervello perché io sono destra bene ecco perché c'era questo pregiudizio un'altra domanda da un'altra bambina e ci chiede ma le donne come facevano a sopportare di non poter fare tutte quelle cose di essere tutte queste cose proibite ne soffrivano stavano in silenzio provavano a ribellarsi sì allora pensa che ai tempi della mia mamma quindi non andiamo da pesa e scetta quattromila anni fa le donne che indossavano i pantaloni erano malviste considerate donne poco serie quindi certo che ne soffrivano alcune non si ribellavano molte si sono per fortuna ribellate e ci hanno regalato perché grazie alle loro lotte ci hanno regalato una maggiore libertà e anche una avviarci a una parità di genere con i maschi pensa che le donne che operaie per esempio no conoscete tutti le fabbriche ecco lavoravano gli uomini e le donne facevano lo stesso lavoro e le donne venivano pagate meno come se valessero loro lavoro valesse di meno certo che soffrivano però a un certo punto sapete sai che cosa hanno fatto si sono unite si sono unite e hanno cominciato a protestare a ribellarsi ricordatevi sempre e ricordiamoci noi adulti che da soli si può andare lontano ma insieme si va ovunque quindi è meglio andare ovunque che andare da soli lontano e è lo spirito di unione delle donne la protesta la ribellione che ha sensibilizzato anche il mondo degli uomini cioè ha fatto dire agli uomini oh accidenti queste protestano avranno un po' ragione e si sono messi a pensare eh gli conveniva pensare perché erano arrabbiate quelle donne perché erano centinaia e migliaia di anni che stavano a sopportare quindi insomma a volte anche hanno si aggerato però erano veramente arrabbiate e allora chi si è sottomesso c'è per rispondere e però per fortuna la maggior parte si è unita e ha fatto una voce sola una voce forte Loretana molto molto interessante e sì la storia è stata piena come dicevamo prima anche di episodi difficili guarda per sdrammatizzare adesso Raffaella invece ci fa una domanda ironica ma invece perché ci sono diciamo un po' il contrario di prima tante maestre e pochi maestri secondo te la tua esperienza hai anche colleghi maestri per dire che anche qui il ruolo dell'insegnante è sia maschile sia femminile assolutamente e servirebbero tanti più maschi nella scuola perché appunto per dare ai bambini la doppia figura e quindi la doppia sensibilità no la sensibilità femminile la sensibilità maschile perché noi siamo diversi maschi e femmine ma è ovvio ma possiamo ma questo non giustifica il fatto che se sia a parte siamo tutti diversi anche le foglie degli alberi non ce n'è una uguale all'altra a parte questo ma questo non giustifica che le donne valgano meno degli uomini o il contrario ecco la metto anche lì allora ci sono molte maestre perché è stato si riteneva che il ruolo dell'insegnante soprattutto all'infanzia alla primaria fosse un po' materno non fosse professionale una figura di professionalità cioè uno studioso noi siamo persone che hanno studiato e che studiano maschi e femmine e invece si pensava più a dare questa idea di maternità e quindi ecco perché tante tante donne e ora gli uomini stanno piano piano e spero velocemente perché io so fra poco andrò in pensione spero ecco mi auguro che il mio fu solo prenda un uomo un maestro sono tipici e poi voglio ricordarne uno dei maestri Gianni Rodari è stato un maestro accipicchia uomini forza vedete come come si può diventare così grandi nell'essere maestro ecco sì io siamo ormai arrivati alla conclusione anche se ci sono ancora domande puoi leggere se vuoi leggere un altro pezzettino magari del libro visto che l'hanno chiesto in tanti magari giusto un paio di righe poi almeno concludiamo con i saluti oh beh un paio di righe ma leggi un pochino dai un paio di righe ti interrompo io ti interrompo io vai interrompimi oggi iniziano le partite il mister ci ha iscritti di nuovo al torneo primaverile l'anno scorso siamo arrivati i penultimi Francesco aveva pure provato a dire che era colpa mia mia di Giovanna perché le femmine nel calcio portano sfortuna come nelle navi dove lo avrà sentito non lo so ma era una cosa stupida così gli ho risposto che era colpa anche sua che non passava mai la palla ci è rimasto come un pesce lesso perché il mister lo rimproverà sempre per questo ma si è ripreso mi ha fatto una smorfia con la lingua così io gli ho allungato un calcio e si è messa a piangere oh ma piangere per un calcio poi abbiamo fatto la pace anche se le sue lacrime mi sono costate una sgridata dal mister Carlotta i piedi usali sulla palla non sulle gambe dei tuoi compagni beh la sgridata mi era piaciuta perché come papà aveva detto la palla e non il pallone grazie mille allora qui le domande continuano ad arrivare noi comunque te le gireremo tutte quante così te le potrai leggere e se vorrai insomma corrispondere magari con una una mail e tutto quanto allora grazie volevo solo ringraziare tutte le docenti tutti i docenti spero di non essere stata noiosa e inutile ecco la mia speranza è di non è che sia stata utile a piccole cose in modo particolare io so che la mia classe oggi è collegata ad opera di una insegnante di una collega e quindi vorrei salutare se permettete tutto il plesso tutto il circolo di Marsciano dove insegno e il mio plesso la mia scuola che è la scuola primaria che porta il nome di un maestro fantastico Angelo Scalzone la scuola di Papiano e la classe terza quindi scusate di questa cosa personale che 30 secondi e a tutte le bambine e a tutti i bambini il mio abbraccio e il mio augurio di una vita strepitosa tenace coraggiosa perché ci vuole coraggio assolutamente e allegria coraggio e allegria giustissimo giustissimo io direi che siamo giunti al termine e vi ricordo che la live sarà possibile rivederla direttamente lunedì in tarda mattinata sul nostro sito da Reggiamo e e niente direi di augurare a tutti quanti un buon weekend grazie mille per averci seguito ci tenevo giusto a fare un saluto grazie Loretana grazie a tutti le persone intervenute ci hai fatto riflettere che forse tutti uomini e donne bambine e bambini dobbiamo ancora fare qualcosa di più dobbiamo impegnarci perché il nostro obiettivo è che uomini e donne siano uguali speriamo che in quest'oretta passate insieme questo messaggio sia servito a questo grazie grazie di cuore a voi tutti grazie grazie a voi buona giornata buona giornata a tutti buona giornata grazie a tutti